Allora, Samuele, perché sei scappato di casa? Improvvisamente questa cosa della separazione di mamma e papà mi fa soffrire. E quando si sono separati? 15 anni fa, anni in circa, una cosa abbastanza recente. Dai che sono in ritardo. Io non salgo neanche morto. Almeno mi accompagni e poi te ne vai. Ho conosciuto uno. E dove? A casa dei amici di mia madre. Quindi questa è una vecchia? Non è una vecchia, c'è la nostra. Potremmo uscire insieme uno di questi giorni? Tu non è il ragazzo. Ci siamo lasciati tre giorni fa. Sono a pezzi, come avrai capito. Sono in ritardo di tre settimane. Che pezzi vuoi fare? Non lo so. Io lo voglio tenere. Lei vuole un figlio del no? Scappa. Date. Ma che dici? Così. Dico, per assurdo. Ragionavo per assurdo. Ho 32 anni e sto per diventare nonna. Secondo te cos'è? Sfiga o abbiamo una maledizione? Io sono il nonno. Davvero? Complimenti. Noi complimenti a te. Ma sei niente di me o di un pubo che dimostriano. Grazie. Sfiga o abbiamo avvenuto. Ma sei niente di nonue. Io lo so ne l'amore. Mi sento, era un bello. Sfiga o normalmente di noi.